Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video di calciomercato dedicato al Bologna all'arrivo di Usama Elazuzi, giocatore giovane, giocatore promettente, giocatore dai campionati da cui Sartori spesso va a pescare le sue scommesse e quindi in questo video cosa andiamo a fare? Andiamo a definire l'operazione dal punto di vista economico quindi la formula con cui il giocatore è arrivato a Bologna, i costi dell'operazione e il contratto che ha firmato il ragazzo e poi andando a ripercorrere brevemente la sua carriera perché è giovane quindi la carriera è breve andiamo a definire quelle che sono le sue caratteristiche tecnico-tattiche quindi a definire il calciatore e a definire e a descrivere anche come il giocatore potrà integrarsi nel calcio italiano e nel sistema di gioco di Tiago Motta quindi se il Bologna lo ha preso per giocare in un determinato ruolo specifico del sistema di gioco di Tiago Motta oppure se è un calciatore preso diciamo più per le rotazioni almeno ovviamente secondo le mie opinioni, io non sono certo nella sede del Rosso Blu e ho sentito i discorsi concluderò il video con un voto da 0 a 10 che sintetizza tutto il mio pensiero e una chicca fantacalcistica per gli appassionati di questo gioco cominciamo con la formula, il giocatore arriva dall'Union Saint-Gillois squadra belga che ha fatto una grande stagione è arrivata ai quarti di Europa League socconvendo solo sotto colpi De Baerle-Vercuse ne ha sfiorato il campionato belga poi vinto dall'Anversa che comunque è stata una grande sorpresa anche la vittoria dell'Anversa grande stagione del Saint-Gillois che ha messo in vetrina tanti calciatori interessanti e i Bologni è andato a pescare da questa squadra e la Zuzzi pagandolo, il giocatore arriva a titolo definitivo pagandolo 2 milioni di euro e facendo firmare al ragazzo un contratto quadriennale fino al 30 giugno del 2027 con anche un'opzione per un eventuale quinto anno in favore della società quindi è un'operazione molto di prospettiva dal punto di vista contrattuale e sicuramente non onerosa dal punto di vista economico giocatore che è costato poco per classe 2001 e anche di ingaggio, non sono riuscito a trovare i dati sullo stipendio ma immagino che sia uno stipendio assolutamente alla portata del Bologna e non è da top player, assolutamente pertanto, andiamo alla sua carriera una carriera, come dicevo, molto breve giocatore che è nazionale, marocchino tra l'altro ha appena vinto la Coppa d'Africa Under 23 con il suo Marocco però di passaporto anche olandese lì è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Vitesse poi dopo una parentesi in una realtà minore di calcio olandese si è trasferita alle giovanili del Groningen che invece è una realtà molto importante del calcio olandese di seconda fascia ma importante che però, nonostante il giocatore nelle giovanili del Groningen abbia fatto vedere avere un grande potenziale in Olanda si parlava molto di lui il Groningen non ha deciso di puntare su di lui e lo ha svincolato senza rinnovargli il contratto quando era giovane e quindi il giocatore si è trasferito all'Hemmen che all'epoca giocava in Serie B olandese lì ha fatto la sua prima stagione tra i professionisti dimostrando di essere un giocatore di livello perché ha trovato continuità, ha trovato minutaggio è diventato un riferimento del centrocampo dell'Hemmen che tra l'altro se non erro in quella stagione ha concluso con la promozione in eredivisie e l'Hemmen quindi al termine della stagione lo ha ceduto all'Union all'Union Saint-Gillois che aveva, diciamo è una squadra molto avanguardistica che ha molto scouting ed è arrivata a costruirsi una squadra interessantissima con calciatori presi da campionati minori tra cui la Serie B olandese dove ha andato a pescare il buone Lazzuzzi pagato, pensate voi, 100.000 euro alla stagione cioè l'Union ha fatto la stagione che ha fatto che vi ho anticipato poco anzi l'ha venduto a 2 milioni ha ventuplicato il valore del calciatore in una stagione quindi grande operazione per l'Union in plus valenza Bologna che quindi punta sul ragazzo andiamo a dire però una cosa importante su quella che è la stagione di Lazzuzzi all'Union L'Union ha fatto sicuramente una grandissima stagione però è Lazzuzzi bisogna dire che ha giocato appena 7 partite da titolare in tutto l'anno quindi non è stato uno dei giocatori di riferimento dell'Union è giocatore che di presenze ne ha raccolte tante ma vi posso assicurare comunque ho tutti i dati qua sotto mano che sono tante le presenze da 1 minuto 3 minuti 6 minuti cioè messo nel recupero diciamo per perdere tempo per far trascorrere i minuti quindi è un calciatore che nell'Union non si è ambientato bene non è stato un riferimento della sua squadra nonostante poi le ultime 3 partite dell'Union le abbia giocate da titolare appunto nella pool Scudetto con l'Anversa e il Genk e il Bruges quindi poi alla fine l'Union ha fatto si è affidato a lui nelle partite decisive per lo Scudetto però durante la stagione non ha brillato particolarmente perché il Bologna ha preso questo giocatore allora perché è un mediano parliamo delle caratteristiche tecnico-tattiche è un mediano principalmente di rottura è un giocatore fisicamente importante circa 1m90 però non è lento è un giocatore che ha lo scatto che ha una falcata importante soprattutto nel rincorrere gli avversari è un giocatore dinamico nonostante la stazza e quindi è difficile da superare nell'uno contro uno e essendo cresciuto nella scuola olandese che bene sottolinearlo è la scuola preferita di Sartori perché è lì che Sartori va a pescare la maggior parte dei calciatori che porta in Serie A sia quando era direttore sportivo dell'Atalanta ma anche ora da direttore sportivo di Bologna sono quelli i campionati da cui pesca Olanda Belgio e da Scandinavi calciatori scandinavi sono quelli diciamo l'area nord Europa centro nord Europa dove il giocatore dove Sartori va a pescare i calciatori ecco essendo cresciuto in una scuola molto molto importante di calcio europeo è un giocatore che è bravo nelle letture è molto intelligente tatticamente e sa quando tenere la posizione e quando staccarsi che è una cosa che tanti calciatori la prendono con gli anni lui già ha questa capacità e quindi è un giocatore che ti può dare a centro campo equilibrio un equilibrio che se Bologna dovesse come si può dire riproporre il 4-2-3-1 che è stato un pochino il punto di riferimento del Bologna dell'anno scorso anche se il sistema di gioco di Tiago Motta è molto fluido non c'è un modulo di riferimento a lui piacciono i giocatori duttili proprio perché non dà punti di riferimento né in fase di possesso né in fase di non possesso agli avversari e questa duttilità permette ai calciatori di essere spesso liberi scambiandosi il pallone con passaggi semplici ma rapidi riescono a trovare gli spazi per essere letali nonostante poi non siano calciatori poi presi singolarmente non sono calciatori dai numeri elevati dal punto di vista dei gol e degli assist ma poi si alternano e realizzano poi una bella cioè una bella coralità efficace in fase offensiva e la Zuzzi sotto il punto di vista della fase offensiva è un po' carente calciatore che ha una fisicità importante che può emergere nei piazzati questo sicuramente quindi sulle punizioni indirette sui calci d'angolo può andare a saltare anche se le sue capacità di lettura forse servono più come ultimo uomo o comunque per tamponare eventuali contropiedi però è un giocatore che ha la fisicità per essere importante di testa qualche incornata di testa in carriera l'ha fatta però quando la squadra manovra a centrocampo sulla tre quarti il giocatore non si spinge avanti quindi lì bisognerà a vedere se Tiago Motta vorrà tenerlo come mediano puramente di rottura e quindi magari liberare di più il magari mettere mediano Ferguson è stato riscattato Moro dalla Dinamo Mosca quindi magari vi è andato più spazi a Moro perché Scouten è un altro mediano che tende a tenere molto la posizione addirittura Tiago Motta l'anno scorso l'aveva provato addirittura come terzo centrale no? Scouten scendeva sulla linea difensiva i due terzini salivano i centrali che di solito erano Sumo e Lukumi comunque i centrali del Bologna si allargavano e Scouten si metteva nel mezzo creando una simile difesa a tre con Scouten nel mezzo figuriamoci se un calciatore che l'anno scorso è stato impiegato così possa avere facoltà offensive o comunque licenze di attaccare ecco una mediana formata da Scouten e la Zuzzi è un po' è un po' statica io penso che la Zuzzi sia arrivato per fare il vice Scouten quindi la coppia titolare dovrebbe essere secondo me Scouten Moro mentre invece la Zuzzi farà credo il vice il vice Scouten anche se è un giocatore con caratteristiche diverse Scouten è un giocatore di ordine di pulizia di che fa saltare la pressione avversaria sicuro di sé nel possesso palla e la Zuzzi è molto più rustico nella gestione del pallone ed è invece molto più efficace in fase difensiva quindi sono due giocatori diversi che però interpretano il ruolo con un dinamismo limitato alla fase di non possesso e quindi sono due giocatori secondo me alternativi che magari verranno alternati o sulla base della condizione fisica dei due delle squalifiche ma anche sulla base dell'avversario che si ha di fronte perché magari in alcune partite è più utile la regia l'impostazione la pulizia di gioco di Scouten in altre può essere più utile invece l'interdizione nel filtro e la forza fisica di la Zuzzi quindi sono due giocatori che secondo me si alterneranno durante la stagione ovviamente Scouten nelle gerarchie parte avanti giocatore che a me piace tantissimo tra l'altro ma che è ovviamente anche un'altra nomea nel Bologna perché non è certo la sua prima stagione e nonostante col cambio allenatore si abbia un po' sofferto effettivamente è stato uno dei pochi calciatori che dall'arrivo di Tiago Motta è peggiorato però nell'ultima parte di stagione è cresciuto anche lui e quindi penso che parta avanti nelle gerarchie rispetto alla Zuzzi che avrà anche tutto il tempo di ambientarsi in un calcio diverso in un campionato diverso di conoscere i compagni quindi è un'operazione in prospettiva è un'operazione in prospettiva di un calciatore che però per ora nel calcio di primo livello ha fatto appena la comparsa è vero che ha fatto una buona stagione in serie biolandese con la maglia del Lemmen però l'Union non si è integrato tra l'altro nel fantamercato che io ho preparato del Bologna che porterò credo la prossima settimana ho fatto un colpo dall'Union ma non l'ho preso e la Zuzzi ho preso un altro calciatore pensate voi ho preparato il mercato del Bologna un mese fa e avevo proprio deciso di andare a comprare un calciatore dall'Union San Gilua non ho preso non ho preso appunto e la Zuzzi ho preso un altro calciatore vi faccio questa anticipazione questo piccolo spoiler così magari vi suscito interesse di quello che sarà il mio fantamercato ecco secondo me in quella squadra c'erano calciatori molto più interessanti l'Union comunque non è una realtà calcistica economicamente potente per cui a cifre assolutamente abbordabili si poteva andare a prendere calciatori che hanno dimostrato molto di più in questa stagione magari invece che 2 milioni ne pagavi 5 5 e mezzo però andavi a prendere un calciatore che aveva già molta più esperienza anche di calcio internazionale più pronto invece questa operazione un po' mi lascia perplesso poi sbilanciarsi in negativo su un'operazione di Sartori in quei campionati lì è molto rischioso perché Sartori raramente fallisce questi colpi però a me un po' di perplessità le lascia sia perché è un giocatore che tecnicamente ha delle lacune importanti e nel calcio di Tiago Motta tutti devono saper fare un po' di tutto non è un caso che siano stati presi Lukumi Posh e Beukema come difensori centrali perché sono calciatori che hanno qualità di impostazione non sono scarponi cioè ovviamente sono difensori centrali quindi prediligono la lettura il gioco aereo la marcatura eccetera eccetera però palla al piede poi sono giocatori che hanno qualità Tiago Motta pretende questo verso i calciatori vuole calciatori che siano duttili ma che siano anche palla al piede qualitativi senza essere inventori di gioco mastodontici non vuole il trequartista puro che trova le imbucate perfette quello non è necessario però tutti i calciatori che puliscono bene la manovra io e la Zuzzi sinceramente in questa realtà calcistica non lo vedo benissimo è un'alternativa diversa rispetto agli altri calciatori quindi in rosa è un giocatore che non c'era diciamo che per caratteristiche ti va a sostituire Medel non fisiche perché Medel era alto un metro e un barattolo questo è un armadio però per come interpreta il ruolo di Mediano è molto più simile a Medel quindi forse per dinamica ti va a sostituire lui non ha mai fatto il difensore centrale potrebbe forse farlo potrebbe adattarsi a fare il difensore centrale all'occorrenza dove i Bologna è un po' scoperto nelle seconde linee intendo lui in carriera addirittura ha giocato qualche volta esterno d'attacco ma senza grandi risultati quindi è un giocatore che d'utilità ne ha intelligenza tattica in fase di non possesso ne ha però nel sistema di gioco del Bologna secondo me farà fatica a integrarsi perché non lo vedo un calciatore da calcio propositivo da calcio dinamico da calcio frizzante da calcio palla a terra non lo vedo un calciatore così sinceramente poi con tutto ovviamente questo è il mio pensiero e sono assolutamente pronto alla quinta giornata a smentirmi e a dargli otto in pagella dopo un po' spartita ci mancherebbe però ho dei dubbi ho dei dubbi sia sui suoi tempi di inserimento che secondo me saranno più lunghi del previsto se sia in generale sul valore del calciatore secondo me Bologna poteva prendere di meglio poteva prendere di meglio anche dalla stessa squadra proprio anche nella stessa realtà calcistica c'erano 3-4 calciatori secondo me molto più interessanti e non li sto a citare perché sennò vi sputtano il colpo di fantamercato che ho fatto però non mi convince vi dico la verità non mi convince anche se economicamente è un'operazione talmente poco onerosa che anche dovesse essere fallita non ti va certo a creare problemi dal punto di vista del bilancio quindi sono comunque operazioni a basso rischio che in una realtà calcistica del livello del Bologna ci possono stare cioè dopo aver preso un bel schema ci sta anche di andare a prendere una scommessa però ecco se arriva per sostituire nella rosa Medel va bene se arriva per sostituire Dominguez perdi il top player perché Dominguez per me era il top player del Bologna perdi il top player lo sostituisci con una scommessa che ha fatto il panchinaro in Belgio e insomma è un downgrade importante secondo me quindi andiamo al voto come ho detto è difficile sbilanciarsi sui colpi di Sartori però a me il colpo non convince per cui do un 5 più economicamente è un'operazione positiva perché ha bassissimo rischio è un giovane non giovanissimo però insomma ha 22 anni però o esploda al Bologna perché non è un giocatore in ascesa perché anche in nazionale nell'under 23 però nella prima squadra in Marocco non è nemmeno mai stato convocato perché appunto all'Union in un campionato di livello più alto rispetto alla serie B olandese non si è imposto non è riuscito nemmeno a trovare continuità minutaggio quindi è un calciatore che secondo me è proprio una scommessa proprio pura ci sta è giusto però almeno cioè magari il calciatore non è male non sto dicendo che sia male però se la Zuzzi l'avesse preso il Verona per dirvi una squadra a caso o l'avesse preso il Lecce per fare il mediano nel centrocampo a tre avrei dato un voto più alto perché magari lo vedevo un pochino più coerente con quello che è il calcio di quelle due squadre nel Bologna non lo vedo benissimo proprio a livello a livello di caratteristiche tecnico-tattiche lo vedo un po' in un pesce fuor d'acqua per questo non assegno la sufficienza e mi limito a dare cinque più al fantacalcio non è un calciatore da fantacalcio un giocatore che non porta bonus non fa gol non fa assist un giocatore di rottura è votato al cartellino che non credo sarà titolare per cui poi nel Bologna è impossibile fare le coppie perché Tiago Motta cambia modulo cambia giocatori 4-5 volte a partita per cui è impossibile fare una coppia del Bologna per cui il giocatore se non è mai al fantacalcio non da prendere non garantisce titolarità quando gioca sicuramente non vi porta bonus e gioca in una squadra dove è anche difficile capire quando sarà titolare quindi o quando comunque entrerà dalla panchina e avrà un minutaggio tale per cui può prendere un voto non è un calciatore al fantacalcio quindi è sconsigliato il mio video si conclude qua vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate se siete d'accordo o non siete d'accordo tutto quello che vi passa per la testa scrivetelo nei commenti per completezza sia mia che degli altri utenti che guardano il video iscrivetevi al canale se non lo siete per supportarmi se volete anche altri video sul Bologna se volete video il fantamercato è già pronto comunque chiedetemi pure nei commenti se volete dei video specifici ho già delle richieste in attesa che cercherò di insomma di esaudire nei prossimi giorni però cerco sempre cioè la priorità sono tanti colpi di mercato di cui parlare ci sono i fantamercati c'è tante cose da fare di cui all'inizio del campionato però do la priorità ovviamente alle cose più richieste dagli utenti per cui esprimetevi nei commenti oppure anche in privato vi lascio il link del mio profilo Instagram e del mio profilo Telegram se volete iscrivermi in privato ci vediamo dunque ai prossimi video un carissimo saluto a tutti ciao ciao